Grant Newsham. È un piacere riaverla ad American Thought Leaders. Sono felice di essere qui. Grazie mille. Grant, gli Stati Uniti hanno rapporti con paesi come Micronesia, Isole Marshall e Palau, che governano circa 6 milioni di miglia nautiche, che sono di fatto sotto il controllo militare degli Stati Uniti dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma questo assetto potrebbe essere in pericolo. Ce ne parli. Non è solo in pericolo. Ormai stiamo per perderlo. Questi tre paesi si trovano proprio al centro del Pacifico centrale. Occupano un'enorme superficie, grande quanto gli Stati Uniti continentali. Sulla cartina del Pacifico trovate le Hawaii, poi andate verso ovest e trovate le isole Marshall, gli stati federati di Micronesia e Palau. A Palau si è quasi alle Filippine. C'è un lunghissimo corridoio, di cui dalla Seconda Guerra Mondiale gli americani hanno il controllo e il dominio. Questi paesi hanno firmato con noi dei trattati in forza dei quali, in cambio di aiuti finanziari e di altri benefici, ci danno accesso militare unico ed esclusivo al loro territorio e il diritto di tenere fuori qualsiasi altra forza armata straniera. È un privilegio che noi sembriamo dare per scontato. Pensiamo che sarà sempre così. Ora rischiamo di perderlo e di non avere più libero accesso. E poi prova a condurre operazioni militari nel Pacifico fino alla terraferma asiatica senza un Pacifico centrale sicuro. Questi paesi sono un corridoio ad alta velocità che consente alle forze armate americane di accedere all'Asia e di spostarsi a nord verso il Giappone e a sud verso l'Australia. Senza, sarà molto difficile difendere il Pacifico. Alla fine ci si troverà a difendere gli Stati Uniti dalle Hawaii e probabilmente dalla costa occidentale americana. Le persone provenienti da queste isole prestano servizio nelle forze armate statunitensi con percentuali molto alte. Sono molto filoamericani. Sì, molto filoamericani. Ormai non si fa che parlare di quanto spendiamo all'estero. È stato da poco approvato l'invio di decine di miliardi in Ucraina. Ci sono molte spese. Qual è il costo-beneficio qui? Il motivo di pericolo è che alcune parti dei trattati che riguardano gli aiuti finanziari che l'America fornisce a questi tre paesi sono state approvate, ma manca il voto del Parlamento. Quindi sono fermi. Parliamo di circa 120 milioni di dollari all'anno per i prossimi 20 anni. Attenzione, milioni. Milioni. Perché in genere in questi casi si parla di miliardi. 20 milioni di dollari. Esatto. Per noi, sotto il miliardo non sono molti soldi. Qui parliamo di milioni. 120 milioni di dollari. La legge attualmente è all'esame del Parlamento. Il Senato l'ha approvata. E ora è alla Camera. Comporta 95 miliardi di dollari, di cui circa 60 miliardi all'Ucraina e prevede 120 milioni all'anno per i tre cosiddetti stati compatti. Mi è stato riferito che questa parte è stata misteriosamente rimossa in una riunione a Washington tra Chuck Schumer, Mitch McConnell, Susan Collins del Maine e Patty Murray. Prima di questa riunione, la disposizione per pagare gli stati compatti era presente. Poi è sparita. 120 milioni di dollari non sono niente per il bilancio degli Stati Uniti. In Afghanistan abbiamo speso circa 48 miliardi di dollari all'anno. Ogni anno. Per tanti anni. In totale, ci abbiamo speso circa mille miliardi di dollari. 120 milioni di dollari all'anno per vent'anni in totale sono circa 2 miliardi 300 milioni. contro i 48 miliardi all'anno dell'Afghanistan. 48 mila milioni contro 120 milioni all'anno. Proprio così. L'Afghanistan era un paese di nessuna importanza strategica per gli Stati Uniti. Nessuna. Qui stiamo parlando di tre paesi che occupano il centro dell'Oceano Pacifico e che sono indispensabili per la difesa dell'America. innanzitutto dalla Cina. Noi teniamo sotto controllo la Cina difendendo una linea che va dal Giappone a Taiwan alle Filippine fino alla Malesia. Questa è la cosiddetta prima catena di isole. Parliamo sempre dell'importanza delle relazioni con il Giappone che sta potenziando le proprie forze armate. Stiamo facendo di più con le Filippine che stanno strutturando seriamente le loro forze armate. Stiamo aiutando Taiwan come mai prima. E va bene. Ma se non vedi cosa ti succede alle spalle hai perso. E considerata la cifra è imbarazzante che se ne stia a discutere. Quando questa disposizione è stata eliminata dalla legge presumibilmente è stato fatto per risparmiare. Come se in un ospedale per risparmiare un po' sull'elettricità si iniziasse a togliere le spine dal muro. Si risparmia un po' di elettricità ma se una delle spine è quella che fa funzionare le macchine di supporto vitale si perde molto di più di quel poco che si risparmia. I popoli di questi paesi vogliono che manteniamo le nostre promesse. Prestano servizio nelle forze armate americane a un tasso più alto di quasi tutti gli stati dell'Unione. Hanno un rapporto storico con noi e nutrono vero affetto per gli Stati Uniti. Basta visitarli per capirlo. Ora c'è irritazione, quasi sconcerto. Si sentono fregati dagli Stati Uniti. Pensavano di avere un accordo e lo sanno che sono pochi soldi. L'ex presidente della Micronesia Panuelo è intervenuto qui spiegando nei dettagli il livello di infiltrazione a fini sovversivi del regime cinese in questi stati per portarli dalla sua parte. Gran parte della diplomazia cinese si fonda sui soldi anche se in molti luoghi si sta rivelando un fuoco di paglia. Quando finiscono i soldi si va a cercare un'offerta migliore e il regime cinese si presenta sempre con regali molto allettanti. I funzionari di alcune di queste isole dicono lo facciamo perché non abbiamo alternative. Non solo gli americani non sono disposti a pagare questa piccola somma di denaro. I cinesi sono lì pronti a infilarsi e da almeno 30 anni. La presenza commerciale cinese in tutti questi paesi è immensa al punto di dominarne il settore principale cioè la pesca e non è solo la pesca gran parte delle attività commerciali hanno una presenza cinese e questo porta a un'influenza politica attraverso la corruzione in cui i paesi si possono comprare interi collegi elettorali in queste isole ci sono anche persone che pensano che la Cina sia meglio perché promette di mandare turisti e riempire gli alberghi e in alcuni casi l'ha fatto salvo poi interrompere il flusso turistico quando non era soddisfatta dell'operato di questi governi ma comunque per loro questo è un indicatore economico chiaro ci sono pochi americani e tantissimi cinesi i politici riescono a capire che le loro azioni o inazioni hanno degli effetti siamo molto concentrati su Medio Oriente Russia e Ucraina che meritano attenzione ma ci dimentichiamo di quest'area vitale non so se abbiamo mai avuto questa capacità forse è solo la natura umana concentrarsi sull'immediato e tralasciare gli effetti successivi ma qui c'è abbastanza evidenza empirica per dirci cosa succederà ci sono trent'anni di attività cinese e ci sono le dichiarazioni dei cinesi su cosa intendono fare ovvero buttarci fuori dal Pacifico stanno combattendo una guerra politica senza armi ma si vede la loro azione sovversiva e manipolatoria su certe popolazioni che hanno allontanato dagli Stati Uniti i quali d'altronde non dimostrano alcun interesse per molti anni la politica è stata quella di dare un piccolo aiuto a queste isole ma senza ingerenze nella loro vita interna i cinesi sono qui a offrire loro qualcosa di meglio riempiono i vuoti che noi abbiamo lasciato non è che domani arrivano i soldati cinesi ma se questi accordi non vengono mantenuti in questi paesi qualcuno perderà la pazienza ogni presidente di queste nazioni ha un assegno in bianco cinese sulla propria scrivania e non l'ha ancora incassato e può abbandonare in ogni momento il trattato con l'America a quel punto che faremo? Mandiamo i Marines? Li occupiamo militarmente con la forza? Basterebbe poco per evitare tutti questi effetti a catena Ovviamente non lo faremmo è impensabile Grant in sintesi cosa deve succedere qui? Quello che deve succedere è che la Casa Bianca deve essere coinvolta non possono limitarsi a dire è colpa del Parlamento la Casa Bianca non si è occupata di questo problema con sufficiente anticipo dire ora è colpa del Parlamento e dei Repubblicani è sbagliato la Camera deve ripristinare le disposizioni contenute nel disegno di legge che sta per votare devono ripristinare i 120 milioni di dollari all'anno ripeto sono 2 miliardi 300 milioni in 20 anni devono rimediare i vertici della Camera e del Senato devono rendersi conto che se non si mettono d'accordo saranno considerati quelli che hanno regalato il Pacifico alla Cina e il prezzo di questo errore saranno le vite di molti marinai marines soldati e piloti non ci vuole un genio per capirlo con questa piccola somma di denaro si possono evitare molti problemi se non lo fate e se le cose continuano così nel Pacifico la guerra sarà inevitabile questa è la stessa area che abbiamo attraversato per arrivare al Giappone nella seconda guerra mondiale costerà vite umane ma ora costa pochissimo le popolazioni locali ci vogliono ed è sconcertante che non riusciamo a farlo tutta questa fissazione sull'Ucraina Israele e Taiwan è importante non c'è dubbio ma se non riuscite a fare anche questo perderemo l'Asia non importa cosa facciamo per l'Ucraina o per Israele se non riuscite a ottenere questi piccoli accordi e a stanziare piccole somme di denaro ci troveremo in una posizione in Asia nel Pacifico che al confronto farà sembrare la ritirata dall'Afghanistan una favola è un peccato essere arrivati a questo punto e ripeto anche la Casa Bianca a colpa se si sta discutendo per una piccola quantità di denaro in questa enorme spesa federale c'è un motivo per cui non si riescano a trovare 120 milioni all'anno da compensare non è solo colpa del Parlamento anche la Casa Bianca ha una sua responsabilità ed è un risultato quasi bipartisan e faccio notare che per arrivare a questo punto il disegno di legge è dovuto passare attraverso 12 commissioni parlamentari in pratica il lavoro è tutto fatto è stato un lavoro incredibile quello svolto dai legislatori e dal loro staff democratici e repubblicani che avevano capito l'importanza della questione all'ultimo minuto si era riusciti a mettere insieme le risorse c'è molto da fare in Parlamento e forse qualcuno non si è accorto che era davvero importante in ogni caso deve essere reinserito ma riconosco il merito di ciò che è stato fatto molti parlamentari hanno fatto un ottimo lavoro per arrivare a questo punto ed era quasi fatta e va fatto io non sono incline alle iperboli perché la maggior parte delle cose non sono così importanti né urgenti come si dice ma in questo caso gli unici a gioire sono i cinesi io al posto loro sarei felice di quello che sta succedendo stiamo servendo loro quell'area su un piatto d'argento il PCC avrebbe forti interessi a fare pressioni per bloccare tutto potrebbe riuscirci me lo sono chiesto anche io fanno lobbying per tutto non so se qui si tratti solo di miopia e stupidità non so se ci sia un'interferenza spesso c'è si vede con il controllo delle esportazioni di tecnologia o degli investimenti finanziari in Cina i loro lobbisti sono dappertutto si è vista la falange di lobbisti americani dietro l'amministratore delegato di TikTok quando ha testimoniato davanti al Parlamento qualche mese fa hanno messo i loro collaboratori sul suo libro paga ma qui a me sembra che questa cosa ce la stiamo autoinfliggendo dovrebbe essere fuori discussione qual è qui l'argomento contrario gli Stati Uniti non possono permettersi 120 milioni di dollari è una stupidaggine considerando i 48 miliardi di dollari dati all'Afghanistan ogni anno anche ora diamo milioni ai talebani si dice per assistenza umanitaria abbiamo aperto le frontiere e negli ultimi due anni sono stati spesi circa 20 miliardi di dollari in carte di pagamento ai clandestini e probabilmente è molto di più i soldi ai migranti sono contabilizzati non è una stima i soldi ci sono quindi non so quale sia l'argomentazione contraria risparmiare per dimostrare una gestione fiscale responsabile roba da cabaret non abbiamo realmente bisogno delle relazioni con questi tre paesi del pacifico che sono indispensabili per la nostra difesa una stima approssimativa che nessuno mi ha mai contestato è che si dovrebbe partire da circa 100 miliardi di dollari se dovessimo effettivamente difendere militarmente la posizione che otteniamo dagli accordi COFA costerebbe 100 miliardi e ci vengono chiesti solo 120 milioni all'anno quindi sono perplesso perché lei pensa che la guerra con il regime cinese sia inevitabile perché questo è uno dei presupposti della sua argomentazione è inevitabile a meno che il regime cinese non si svegli una mattina e decida di essere gentile è la Cina che la vuole ma attenzione al tipo di guerra di cui stiamo parlando i cinesi hanno stabilito una forte presenza in tutti questi tre paesi e in ogni paese insulare nel pacifico senza sparare un colpo si tratta di guerra politica influenza commerciale influenza politica corruzione propaganda e a volte intimidazione l'obiettivo è screditare l'America e noi li stiamo aiutando e tutto avviene in modo non cinetico cioè senza sparare agli spari si arriverà solo alla fine se necessario se questi paesi ci dicessero semplicemente noi non pensiamo che i trattati siano applicabili e non vi vogliamo qui anzi a noi serve la pulizia cinese e l'aiuto cinese come guardia ai nostri osservatori a quel punto ci troveremmo in una posizione molto difficile i cinesi a parole e a fatti hanno già detto cosa intendono fare innanzitutto buttarci fuori dal Pacifico circa 15 anni fa un ammiraglio cinese disse all'allora comandante di l'Indo Peckham ammiraglio Keating voi vi prendete l'area est delle Hawaii e noi quella a ovest i cinesi hanno sempre telefonato in anticipo i loro colpi abbiamo una dittatura aggressiva ipernazionalista e totalitaria che vuole soppiantarci e dominarci se continua così se noi non contrattacchiamo arriveremo a un punto in cui o combattiamo o ci sottomettiamo purtroppo chi pensava che la storia fosse finita 30 anni fa e che avessimo vinto noi si sbagliava la natura umana non cambia e quello che sta per accadere è evidente un'ultima considerazione migrante io vorrei sottolineare ancora una volta questo aspetto perché ho visto come negli ultimi anni stia cambiando la posizione della politica rispetto alle isole del Pacifico io in generale pensavo che i politici fossero dei perdi giorno buoni a nulla ma sono rimasto impressionato dalla qualità di molti legislatori e dei tecnici che hanno scritto questo disegno di legge e ora ci siamo quasi l'America va in molti luoghi del mondo in cui le persone non ci vogliono non sono interessate o sono indifferenti noi cerchiamo disperatamente di farceli amici nel Pacifico centrale in queste isole quei popoli ci vogliono non sono molti luoghi di cui si possa dire che le persone ci hanno affidato la loro difesa nazionale nessun altro paese al mondo lo ha mai fatto si tratta di popoli e amici che noi dovremmo trattare come tali lo ripeto se non si fa questa cosa i responsabili possono cercare di scaricare la colpa su chi vogliono ma passeranno alla storia come quelli che hanno consegnato il Pacifico ai comunisti cinesi se il peggio dovesse accadere e probabilmente accadrà a pagarne le conseguenze saranno gli americani da questi paesi spero che si comportino in modo responsabile ci sono molti che ci guardano il Pacifico conta quanto se non di più di qualsiasi altra parte del mondo si occupino i politici Grant Newjam è stato un piacere averla in trasmissione grazie mille per avermi invitato grazie a tutti per esservi uniti a me e a Grant Newjam in questa puntata di American Thought Leaders dal vostro Gian Jekielek grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.